Vorrei fornire qualche mia riflessione, forse scorretta, sull'informazione in ambito cattolico. Spero non sia considerato, quanto sto per dire, il riguardoso. Ai nostri giorni siamo sommersi di notizie che ci provengono da tutto il mondo, anche per quello che riguarda il quattolicesimo. Il concetto di cattolico richiama certo l'universalità della Chiesa e quindi è utile avere una visione più vasta di quella del proprio paese per quello che riguarda le cose ecclesiali. Certo non possiamo mentire se diciamo che una lingua importante per chi si occupa di Chiesa è certamente l'italiano, visto la collocazione geografica del Vaticano. Ovviamente molte fonti interessanti di informazione sono proprio da chi è in contatto quasi fisico con il Vaticano, i suoi uffici, i suoi uomini. Certo i documenti ufficiali spesso escono in più lingue ma ci sono cose che si imparano e che vanno oltre i documenti. Per questo, pur ammirando la vivacità intellettuale del mondo cattolico americano e lingua inglese, mi trovo spesso a constatare che l'informazione che viene da molti di questi blog è in qualche modo limitata. Perché? I giornalisti italiani che conosco io, oltre alla loro lingua, possono leggere in almeno altre tre o quattro lingue come inglese, francese, spagnolo, portoghese e via dicendo. Mentre molti giornalisti nel mondo americano fanno affidamento soltanto sulla forza della loro lingua, l'inglese, forse pensando che tutto quello che c'è di importante è già tradotto in questa lingua. Ma questo è un grave errore. Ci sono autori che non sono per niente tradotti in inglese e che sfuggono totalmente alla loro considerazione. Questo è in realtà il problema delle superpotenze, come anche succede per la Cina. Guardano sempre a loro stessi e al loro interno e pensano che hanno tutto quello che è necessario per capire. Ma non è vero. Se notate in molti nostri blog ci sono versioni in altre lingue degli articoli in italiano, ma nel loro non avrete mai i loro articoli tradotti nelle nostre lingue e molto raramente si preoccupano di far tradurre la produzione giornalistica che viene dall'estero. Si ha l'impressione che non hanno interesse oltre quello che viene prodotto in casa loro, pensando che è tutto quello che gli serve. Ora, ci sono anche giornalisti e studiosi oltreoceano che parlano più lingue, ma mi sembra un'eccezione più che la regola. Anche per coloro che possono leggere più lingue oltreoceano c'è però da applicare una certa prudenza quando si parla di informazione cattolica, non dimenticando che gli effetti dell'americanismo, già denunciato da Leone XIII con la lettera Testem benevolentie, si fanno ancora sentire nella loro mentalità. Una mentalità antidogmatica e che cerca azione più che fatti. Si risolve spesso in plot avvincenti più che in una reale comprensione della sostanza. Come detto, sono un lettore di quello che si produce oltreoceano e conosco una buona parte dei loro intellettuali cattolici. Mi sorprendo spesso ad apprendere però che gran parte dei nostri intellettuali cattolici, certo non meno preparati dei loro, vengono sistematicamente ignorati senza alcun rimorso.